e ciao ragazzi benvenuti dal vostro carissimo energix si ragazzi sono io e diciamo questo è il mio primo video se vogliamo dire ma in particolare questo video sarà basato sulla mia stanzetta però che io diciamo con la mia fantasia e l'immaginazione ho modificato quindi diciamo è il posto in cui registro sto diciamo non tutto il giorno diciamo la maggior parte del tempo sono tutto il tempo fare di stabilizzare come spazio state vedendo al momento io stavo editando il nuovo video sul tempo che uscirà sul canale penso tra domani perché sono gli strani video di sera non mi ricordo che ora sono comunque vediamo intorno subito sono le 10 meno 20 quindi sì è serio tra poco andrò a dormire anche domani mi aspetta ancora e niente ragazzi io spero che il vi faccio mi raccomando like iscrivetevi poi ragazzi in descrizione dell'app ci vediamo nel prossimo video e ciao ragazzi